Nel corso di questo fine settimana la nostra regione sarà coinvolta in una delle situazioni più sfavorevoli che le potevano capitare. Masse d'aria molto fredda provenienti dalla Russia settentrionale interesseranno tutta la nostra penisola determinando una forte ondata di freddo con caratteristiche di gelo. L'aria fredda in una prima fase interagirà con aria mite convogliata da una depressione che attraverserà il tirreno nella giornata di sabato e questo comporterà condizioni di forte maltempo con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote molto basse. Dopo il passaggio del fronto perturbato che avverrà entro la serata di sabato irromperà con vehemenza l'aria gelida dai Balcani che farà crollare le temperature su valori al di sotto dello zero su tutto il territorio regionale. Entreremo così in una fase caratterizzata da freddo molto intenso con venti forti dai quadranti nord orientali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 13 febbraio cielo molto nuvoloso coperto ovunque con precipitazioni diffuse specie sul settore occidentale dell'Appennino. Nevicate in Appennino inizialmente al di sopra dei 7-800 metri ma con limite in rapido calo nel corso della giornata fino a quote di bassa collina e entro la serata fino in pianura nelle aree più interne. Lungo la costa sarà pioggia per tutto l'arco della giornata con possibilità di qualche spruzzata di neve solo in tarda serata. Fenomeni comunque in esaurimento dalla serata ad iniziare dal settore centro-settenzionale della regione. Temperature in forte diminuzione dal pomeriggio. Venti moderati con locali rinforzi a rotazione ciclonica da sud sui settori meridionali e con dendenza a disporsi da nord-est ad iniziare dal casertano e napoletano. Mare molto mosso. Domenica 14 cielo generalmente poco nuvoloso lungo la costa mentre a densamenti consistenti interesseranno le aree più interne dove potrebbero verificarsi deboli nevicate fino in pianura. Nel corso del pomeriggio qualche spruzzata di neve potrebbe raggiungere anche alcuni tratti di costa. In modo particolare la città di Salerno. Temperature in ulteriore diminuzione con valori prossimi a 0 gradi centigradi ovunque. Dalla serata temperature al di sotto dello zero ovunque. Venti forti da nord-est. Mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Nei giorni successivi il freddo persisterà anche nella giornata di lunedì congelate diffuse al primo mattino. Un lievo rialzo delle temperature è previsto a partire da martedì 16 febbraio mentre l'evoluzione è incerta per i giorni successivi per cui invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e a seguire l'intervento in diretta questa sera alle ore 21 e 15 sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.